salve a tutti benvenuti con la potenza di questa serie sono un video 1923 con i nostri nationals terza partita con pittsburgh prima vinta diciamo teoricamente in maniera agevole con un po di brividini al finale seconda persa male non male per punteggio ma male per come l'abbiamo giocata e abbiamo giocato veramente veramente male abbiamo fatto del massiccio turnover quello sì ma non purtroppo anzi che non giustifica la prestazione brutta che abbiamo mostrato intanto però intanto c'è una bella notizia bobby il nostro bobby torna disponibile il nostro bobby torna disponibile ed è una bellissima notizia ora io quello che farei adesso 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 bobby come un minato seconda terza prima poi tutti i ruoli perfetto noi voglio bobby voglio facciamo facciamo giocare bobby facciamo il maestro quanto c'è velocità 67 no e lewis 85 ok però mayers è quello che 67 scusate allora allora devo mettere all'un prima seconda allo mayers potrei mettere no vabbè eventualmente torno gli facciamo fare turnover dai comunque e aspetta replace player hai ragione mi dice sarebbe buono per il suo morale ora che è rientrato farlo giocare hai ragione will myers will myers e le feeder central filter facciamo una cosa no facciamo una cosa e ok e ok maier let feeder va bene e l'agia e l'agia per oggi fa tu non riposo oggi gioca bobby oggi gioca bobby oggi gioca bobby ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato porca mitere ho sbagliato allora qua ok 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 e a posto e l'agia bobby bobby prima base bobby grande bobby andiamo downs avvolto provare spark ok ah ok ok quindi adesso pure pure jitter devo far giocare ma posso di chi jitter posto di abrams vabbè jitter va bene sì sì ok jitter down sul posto di abrams va bene facciamo giocare va bene va bene scusate 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 colpi di tosse e andiamo andiamo cominciamo con dare kill dare kill pronto alla battuta come lancia questo ok andiamo 0 1 l'agia la battuta va bene l'agia l'agia 0 2 e ora per i elli addirittura va bene l'agia 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 ooooh e no la seconda vola l'agia niente prima eliminato ora win mayer sarà battuta dai will 1 0 grazie arbitro scusate 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 ora io però ho controllato una cosa scusate perchè rischio di non avere ah no anche a posto va bene non l'avevo controllato se il microfono funziona aaaah ma faul faul ancora will mayer sarà battuta ancora will e 1 2 bell'altro cappa dai will e niente scusate secondo eliminato Dando un po' più fastidio del solito 1-0 Le Menenses Alla battuta Le Menenses 2-0 Le Menenses Con calma non c'è fretta Non c'è fretta di girare Ok Ed è valida Valide Menenses Va bene Va bene Va bene così Adesso Bobby signori Bobby torna a battere E però Strike 0-1 va bene Va bene Bobby Va bene Bobby E 0-2 E' too late Vai Bobby E niente Vinci a primo inning Non facciamo punti Però adesso Siamo cercati di non subirli Siamo con Strasburg Che è il nostro miglior lanciatore Già c'è un primo strike E' stato Curva Grazie arbitro 0-2 Ora Sinked E niente Balena spiaggiata Scusate 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 E ora Entra Vai Strasburg E niente Arrivo 0-1 Ora Circle 0-2 Ora Diano Sempre 0-2 E fai una sink Tipo Così Facciamo una circle Tipo Così 2 Metto Top Secca Sempre 1-2 E Nox Stiamo andando benissimo Vai 3 E Ho sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato Tasto Niente Prima eliminato Myers è tua Tenernamente tua Subito la terza E niente E niente Secondo eliminato Ma ci hanno l'uomo In terza base Attenzione Una national Ok 0-1 Poi io direi Con una slarv Benissimo 0-2 E una sinked Niente Direi una circle Eeeh Niente C'è favore Cura automatic double E pitbull In vantaggio Ho sbagliato tasto 0-1 La match non se la devo fare 1-1 Ma proprio male 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 Devo dire Male Ma male 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 1-2 Poi Slarv Ok I più nel primo iniziamo Già sotto 1-0 Andiamo già sotto 1-0 La grande eh Ora Lui si ha la battuta Ok Siamo a fare Andando avanti così Nulla di buono Però almeno ci proviamo 0-1 Oh dai Valida Valida di Lewis Valida di Lewis E' la prima matta occupata Dai Adesso Miranda E' una battuta 1-0 Poi Dai Miranda Bella 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 Valida E' son due batti occupati Va bene Va bene Va bene Va bene Io vi chiedo scusa per sta tosse Oggi E' ancora peggio Ma proprio Mi è iniziato Un momento peggiore Proprio Un attimo dopo Che ho acceso Che ho provato il pulsante Per far partire la registrazione Sto Sto morendo Praticamente Mi vedete Morire in diretta In live In video In ogni caso E' stato bello Grazie a tutti quanti Per avermi seguito Per avervi sostenuto Tutti questi video E' stato bello Comunque 0-2 ancora Carson Kelly Sempre nella battuta Eeeh Vabbè Ora siamo a questo E vabbè C'è Vabbè Ok Va bene Nel senso Ci hanno fatto un eliminato Io poca miseria Non so come si fa Ne partire uno solo Per un punto Per un punto L'abbiamo fatto 1-1 Ecco Le abbiamo ripresi Adesso Candelabra La battuta 0-1 E' late Vabbè 0-1 1-1 Dai ragazzi Dai signori Ora candelabra La battuta Eeeh 1-2 Però ci siamo Bolle 2-2 Dai candelabra Dai candelabra Era bollo Ma va bene 2-2 Ancora toccata La teniamo In vita Teniamo in vita Questo Non di battuta 3-2 Attenzione 3-2 Proviamo Bella Bella L'abbiamo Ti abbiamo quasi fatto saltare la testa Allora Lanciatore Ok valida Prima seconda Base occupata Va bene così Adesso Jitterdowns Alla battuta 1-0 Dai Jitter Dai Jitterdowns Con il baffetto sparbiero Dai Jitter Ah no però No però Eh niente Fandola doppia e chiudono un inning Però Per un punto L'abbiamo fatto Sperando di non subirli Adesso Magari Magari Almeno sicuro Questo secondo inning In parità Possiamo Giocarcela Almeno si spera 0-2 Farei una circle tipo così Niente 1-2 Farei una Un-sinked Tipo poi in basso Ok Primo eliminato Va bene Va bene Adesso Luis è tua Serenamente tua Luis Serenamente tua Secondo eliminato Va bene Va bene Adesso Di là 0-1 Questo foul Ora Sinked 1-1 Andiamo di Larve Beh Eh eh Ha girato Eh eh E Monello Hai girato Monello Hai girato Eh Olè Oh Riusciamo a chiudere questo inning Senza dubire punti Di fatto Chiudiamo in parità Il secondo Il secondo inning Di fatto La partita Ricomincia adesso Derek Hill Ha una battuta 1-0 Vola che non potete Immaginare 0-1-1 Niente Calma Dai Derek No Venierli 1-2 Niente Niente Questo con le palle Che mi Vabbè Niente Prima eliminato Mi maestra la battuta 1-0 Dai Will Dai Will 2-0 Dai signori Dai si può fare Dai Will Eeeh No 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 Però è double Automatic double Signori Non so Will Myers In seconda base Va bene Va bene Non male Non male Adesso Menences Alla battuta Non la prende La prende Signori Alla grande Alla grande Signori Alla grande Signori Secondo punto Adesso passiamo avanti Emo c'è Mo c'è Bobby E adesso c'è Bobby Signori Ah Troppo Troppo reattivo 0-1 Dai Bobby Dai Bobby 1-1 Dai Bobby Dai Bobby Credici E va Fa niente Dai 1-2 Comunque ci sei Comunque ci sei 1-2 Dai Bobby No Ho sbagliato io E niente Secondo eliminato Secondo eliminato E adesso Royce Lewis Alla battuta E Royce Bella 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 E ti fa il terzo E ti fa il terzo Va bene 3-1 Miranda Miranda La battuta E Miranda Ah E qua L'eliminazione Facile E va bene Comunque Facciamo due punti Vediamo se riusciamo Alla fine Nel suo turno In Diciamo In ricezione Alla fine Nell'inning In difesa Riusciamo a mantenere Questo vantaggio Spero di sì Ne ho Garanzie Comunque 0-2 Ora Sinked Primo eliminato Dai Dai E adesso Ah Lewis è tua Serenamente tua A posto Secondo eliminato Va bene Scusate Va bene Secondo eliminato Ora Dai I nationals Benissimo 0-1 Sinked 1-1 Slarve Benissimo 1-2 Circle Lo farei così alta Benissimo Ha tirata malissimo Ma va bene così Sicuro del terzo Indigo 3-1 per noi Va bene Va bene Signori Va bene Adesso Carson Kelly Ha la battuta E Carson 1-0 Scusate Fate davvero 1-0 2-0 2-0 Dai Carson Dai Carson 2-1 Va bene Dai Carson E niente E niente Era caduta Ma purtroppo Era già lì Praticamente Sul primo Pallo E io Sul prima base Era già lì Praticamente E vabbè Scusate 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 0-1 0-1 Candelabro La battuta Eh 0-2 Questa l'ha tirata Bella 0-2 1-2 1-2 Ok Noo E che E la sbaglia 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 E sbaglia Il passaggio Bellissima Questa Ruba Di fatto La fine A base Candelabro Va bene Va bene Così Ora Giri Down Sarà battuto 1-0 Guardate 1-0 Dai Candelabro Che è Scusate Ho sentito parlare Le Candelabro La Candelabro Come ti chiama E l'ho confuso 1-1 2-1 Ok E dai 2-2 Niente Vai Jeter 3-2 Dai Jeter Attenzione Eeeh Jeter Non la prende Va anche la battuta Jeter Secondo eliminato E adesso Derek Killer La battuta E Derek 0-1 0-1 Vabbè E porca miseria Perché Perché giro 0-2 Proprio da pollo Proprio 1-2 1-2 Senti Praticamente Tutti là 1-2 Inizia Inizia da fare Finisce Anche il quarto Quarto inning Non facciamo punti Adesso Tocca a noi Difenderci Ma così Non inizia Benissimo Slider Bravo Candelabro Finalmente Finalmente I miei giocatori Si accorgono E possono Contemporaneamente Saltare E alzare il braccio In alto E allungare il braccio Verso l'alto Si accorgono di questo Dai E' un'evoluzione E' un'evoluzione Della nostra squadra Dei nostri Dei nostri giocatori Imparano Addirittura Essere multitasking Cioè Contemporaneamente Saltare E alzare un braccio E Sono Sono Grandi conquiste Queste Va bene Comunque 1-2 1-2 Marino 1-2 Circle E 3-2 Visto per dritto Sempre 3-2 Ok Ancora 3-2 Visto per dritto Sempre 3-2 Ci ha scassato 3 quarti Ci ha scassato 3 Ci ha Ci ha Scassato 3 quarti E E' girato E' girato Secondo eliminato Ora 0-1 Sinked 0-2 Con i qua 3-0 2 Slarve E' tua Giter Serenamente Tua Giter Serenamente Tua Si chiura Anche il quarto Inning Sempre 3-1 Va bene Così Così Adesso Ma E' stata Battuta Che bruttezza Che bruttezza E' eliminato Ora Joey Meneses Alla battuta E' niente Va bene Manco questa Secondo eliminato E ora Mo c'è Mo c'è Bobby Attenzione C'è Bobby Dai Bobby 1-0 1-0 1-0 Bobby Vai Bobby E' un 1-1 Scusate 1-1 Eeeh Bobby Ci prova Niente Non va Non va Non va Niente Questa Quinto inning Fensiva Finisce In fretta Adesso Torniamo A difendere 1-0 Larve Bobby A posto Tranquillo Bobby Primo eliminato Ora E 0-1 Ora Larve Candelabro Bella Terzo tempo Stile basket Candelabro Per gli amici Michael Jordan Grande Grande Candelabro E adesso Qua Benissimo 1-0 Ho sbagliato Vabbè Ho sbagliato Io non Due lanci Non ho fatto La National 3-0 Vedete Adesso L'ho intimidito Adesso Turno svolta Vedete 3-1 3-1 E mo cambia tutto Eh Beh T'è intimidito E' troppo reattivo Dai 3-2 Ok Ma il fai tua Terrenamente Tua A posto E si chiude Inning Il quinto Sempre 3-1 Per noi Va bene Loro cammina il lanciatore Con le Ragans Mi spiace che c'ha le Ragans Quindi 0-1 La battuta Dai Royce E niente Provato Solta Non è andata Prima eliminato Una dritta Peccato Non è passata Miranda La battuta Adesso E che 0-1 Cosa cacchio giro Pure io Dai Bella Bella Beh No Niente E niente Non è eliminato Ora Carson Kelly E' la battuta 0-1 Ora Carson Kelly E' 0-2 Bullpen Devo Cominciare a mettere qualcuno Al bullpen Mi sa E' Allora Forma Finnegan E Edwards Intanto così Giusto per Poi Poi vediamo Niente Non facciamo punti Al sesto inning Adesso Per noi Difenderci 0-1 Poi Slarve 0-2 And then Appella Sink 1-2 Una circle Un po' Un po' Così Interdown Settua Posto Primo eliminato Va bene Va bene Ora Qua 0-1 Poi Slarve 0-2 Ok Sinked è però così Trivelato Sinked è trivelato Bellissimo Secondo eliminato Secondo eliminato Va bene Ora Andiamo con una Palla Nationals L'arbitro E' sempre Quello che è Deve sempre Mostrare di tanto in tanto Il mestiere che fa Sua mamma E' più forte di lui 1-1 Intanto Ciao eh Ciao Vabbè Inter Ci hanno l'uomo in prima base Ok Non preoccupiamoci troppo Perché Abbiamo due eliminati Ma Facciamo Attenzione Io ho premuto triangolo Comunque Ma va bene Va bene lo stesso 1-2 Slarve 1-2 Sempre E' però una Sinked Ok Miranda Se ti sbrighi Cortezamente Chiudiamo anche il sesto Inning Sempre 3-1 Sempre in vantaggio 3-1 Va bene così Direi Ora Candelabro Alla battuta 1-0 2-0 Dai Dai Candelabro 3-0 Dai signori Dai gita E' il gita Vabbè 3-1 Era strike Lo stesso Una Questa lasciamo andare Vabbè 3-2 E adesso noi Dai Dai Candelabro E' Porco Rialiminato Rialiminato Inputta la cosa Di girare Vabbè Adesso Gira la battuta 1-0 E' Gita E' 1-1 E' Valida 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 di giter Valida di giter Si fa la doppia La doppia di giter downs La doppia di giter downs Grande giter E adesso Dare a kill Ricomincia Il giro Dare a kill La battuta Per 1 Ok E' La solita Chiamata Simpatica Dell'arbitro 0-2 E' Niente Stavolta Brutto Stavolta Brutto Secondo Aliminato E vabbè Ora Will Myers La battuta Dai Will Eh che cosa Giro Cosa Giro Pure io 0-1 0-1 Calma 1-1 Dai Dai Will Bella 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 Si fa il bel punticino Nel 4-1 E portiamo un altro in seconda base Va bene Will Va bene Will Va bene Will E adesso Attenzione Intentional walk su Menenses Attenzione Intentional walk su Menenses Attenzione E adesso Bobby Sottovalutano Bobby Attenzione Sottovalutano Bobby Potrebbe essere un errore fatale Hanno fatto Hanno fatto L'intentional walk su Menenses Pensando Bobby Eh niente Pensandone Lasciate stare Lasciate stare Va bene E niente Si chiude il settimo inning No non si chiude perché Dobbiamo difenderci Però Un altro punto L'abbiamo fatto Direi Io provo a farlo iniziare a Strasburg Strasburg Provo A farlo iniziare E Ale Primo eliminato Se dovessi riuscire Se dovessi riuscire A fare Fare bene Nel senso A chiudere questo inning Eppure con Niente Sì Penso Due ore fa Certo Aspetta un altro po' Prima di far passaggio Mi raccomando Fai un altro po' Di passettini Mi raccomando Non lanciare subito Zero Sto facendo Oh dai Forse è un po' rischiosa Ma Io vorrei vedere se riesco Due Due Sinked Maestro è tua Serenamente Tua Provaci Niente Secondo eliminato Sai che ti può fare Eh che tintare Ho capito Vabbè dai Ehm È giusto Da posto Serenamente Tu Ma Myers A posto Così Si chiude Il settimo inning Sempre 4 a 1 Bene così Chase De Jong Monte di lancio Per lanciare Particolarmente piano Vediamo Ehm È niente Prima eliminato Stato proprio Brutto Ha preso al volo Per pietà Probabilmente Miranda La battuta Sbagliato Tutto Ehm Per uno Poi Ehm Bella Bella Questa è una valida Vali ai Miranda Prima base occupata Vali ai Miranda Va bene E adesso Carson Kelly Alla battuta Vai Carson Vai Carson 1-0 1-0 Dai Carson Ehm Vabbè 0-1 1-1 Scusate 1-1 Bella 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 Seconda e terza base Salvi Seconda e terza base Occupate Bella così Scusatemi Tantissimo Candelabro La battuta Bella Ancora Qua si fanno due punti E la doppia Va benissimo 6-1 6-1 Cambio nel lanciatore Will Crow Will Crow Sul monte di lancio Tira un po' più forte O almeno in alcuni lanci Un po' più forte Sembra di sì 1-0 Tampi Jeter Damsa Una battuta Adesso 1-0 Ehm Porca Mica 1-1 1-1 Vai Jeter Attenzione Valida E valida E una valida E una valida Prima e seconda base Occupate E adesso Derek Hill Alla battuta Dai Derek Ehm Ehm 0-1 Cusatemi ancora E1 Con la tosse Ehm Ehm 0-2 Ehm Malissimo Ehm Header Kill 1-2 Ehm Bella Ehm Ehm Signori Basi piene Basi piene Un suo eliminato Bene così Ora Will Alla battuta 1-0 Io però a sto punto Ma tira Bene Bene dai Dai Will 2-0 2-0 2-0 Diciamo Diciamo che la partita Si sta Mettendo sulla buona strada 2-1 1-1 6-1 All'ottavo inning Direi che è un buon punteggio La precina ha fatto se facciamo altri punti o no Nel senso Che se è uno comunque un buon punteggio E ancora attenzione Attenzione Qua si fanno punti a manetta 9-1 9-1 3 punti che ho sabbattuto abbiamo fatto 9-1 Stiamo devastando il morale di sto lanciatore Questo Probabilmente A fine partita non c'era ritiro Probabilmente Si darà All'ippica O Agli scacchi O al nascondino Molto probabilmente 1-1 3-1 E 1-2 Calma Calma Tranquillo Non c'è fretta di fare punti Ne abbiamo Ne abbiamo già fatti tanti Io Raramente Penso di essere arrivato A fare così tanti punti In secondo eliminato E adesso c'è Bobbi Attenzione A Bobbi Attenzione A Bobbi E 0-1 E 0-1 0-1 Dai Bobbi E 0-2 Niente non la sto prendendo più manco per sbaglio la palla Niente non la sto prendendo più manco per sbaglio la palla 1-2 Vai Bobbi Vai Bobbi E vabbè Sì e niente Alla fine Un po' di punti li facciamo Arriviamo al 9-1 Al fine quest'inning Alla bullpen a sto punto Io direi Finnegan Put in game Abbiamo Ninning l'uno Per non farli affaticare troppo 0-1 0-1 Maestro è tua Serenamente tua a posto Preliminato Va bene Va bene Adesso 0-1 Slider 0-2 Direi Questa così Benissimo Secondo eliminato Ora Di nuovo Tempre Inizia Con una Nationals 0-1 Stavolta faccio splitter Ma di là 0-2 Va benissimo E slideriamo E 0-2 Poi Splitter E l'arbitro Va bene Va bene A me mi ha chiamato I strike peggiori Va bene Ancora l'arbitro Con le chiamate Con le sue chiamate Molto fantasiose Tempre 2-2 Slider E ale Chiudiamo l'ottavo inning 9-1 Io direi Questo punto Posso dirlo Partita praticamente Chiusa 9-1 Va bene Tutto Ma Non Dubito Che mi facciano 8 punti Il prossimo inning Sempre ammesso Che non ne faccia Altri adesso Però E' sempre bene Stare concentrati Fino alla fine Intanto Prima base occupata Miranda L'ha battuta Questa è Seconda Lignato Lignato Giudate Va bene E va bene Ora Carson Kelly E' la battuta Hai Carson E' niente Aghia Questa è la più Nuova veloce E' niente E' niente Non facciamo punti A nono inning Volendo Poco male Prendo onestamente Poco male Ah no Un attimo Allora Io Form up Lui Edwards Putting game E' Io metto Vabbè Floro Si sa mai Metti Succede Tipo L'apocalisse Viene La Viene Tipo La 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 cagarella Diciamo A tutti i miei giocatori Ecco Mi tengo Uno vaio Non si sa mai Comunque 0-2 Circle Vabbè Uno Due Slarve Slarve Va bene Prima eliminato Poi Poi Prima La Nationals Ovviamente Non è così La Nationals Voglio fare Una Nationals Va bene Ora Ora sono soddisfatto Cut 1-2 Fare una 12-6 Adesso Qui 12-6 Ok Scusate Lo so E' brutto Un brutto finale E' brutto modo di finire Con quella computata Però Puro Mi si è Mi si è Bloccata La La Si è Bloccato Il pc Mi Mi Frizzato Il pc Tra l'altro Per fortuna Ho potuto recuperare Il video Perché mi sono preso Un programma Dock Per Ricostruzione Di video Eccetera Quindi E' andata Persa Queste partite Perché Questa è una bella partita Comunque Finita 9-1 E' finita 9-1 Con il punteggio La Meno male Alla fine La partita Era abbastanza Chiusa E il risultato Non è cambiato E' finita 9-1 E' Hanno E' stato Diciamo E' stato Un buon turno Anche loro Risultati Avversari Perché Padre S'hanno perso I Mets S'hanno perso E però Hanno vinto I Cardinals Quindi Manteniamo Sempre i 4 In vantaggio Dai Cardinals Però Diciamo Fareguette Agganciamo I Mets Nel senso Che si Rituperiamo in classifica Ma abbiamo una partita In più Diciamo che A parte le partite Noi I Mets Abbiamo Potremmo avere Il stesso numero Potremmo avere Il stesso numero Di vittori Padres Siamo a Meno 3 Dai Padres Ma soprattutto Siamo a Più 4 Ai Cardinals Sperando Di mantenere Il tutto Ora Io chiedo scusa Per la puntata Che è stata un po' Tardassata Dalla mia tosse Dai problemi tecnici È stato un delirio Vi chiedo scusa A riguardo Vi ringrazio Per aver seguito La puntata Fino a qui Io vi saluto Vi do appuntamento Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima